Cosa leggere e guardare? Un elenco di libri e video che possono migliorare le vostre capacità di presentazione, vi possono aiutare a approfondire un soggetto o semplicemente essere di grande ispirazione. Alcuni di essi sono stati menzionati in capitoli precedenti e altri no. Il punto di inizio, il primo da citare non può essere nient'altro che You are the message di Roger Hale. È stata per me la prima fonte di ispirazione nel 1995, quando ho iniziato a tenere corsi di public speaking. Il titolo dice già tutto. Quando parliamo di fronte a un pubblico, noi siamo il messaggio, non le nostre slide o tutto il resto dello show di contorno, ma chi presenta è il messaggio. E questo è importantissimo.